Annabeth Nyx schioccò di nuovo la frusta. L'oscuritale si congelò intorno. Ai suoi fianchi comparve un esercito di ombre, altre arai con le ali nere che Annabeth non era per niente contenta di vedere, un vecchio avvizzito che doveva essere Geras, il dio della vecchiaia, una donna più giovane con una veste nera, gli occhi scintillanti e un sorriso da serial killer, senz'altro Eris, dea della discordia. Altri continuavano ad apparire, decine di demoni e divinità minori, ciascuno discendente di notte. Ma Annabeth avrebbe voluto scappare. Si trovava davanti una nidiata di orrori che avrebbero fatto perdere la ragione a chiunque. Ma se fosse scappata, sarebbe morta. Accanto a lei, il respiro di Percy si fece sottile, anche attraverso il camuffamento spettrale. Annabeth intuì che era sull'orlo di un attacco di panico. Doveva tenere duro per tutti e due. Sono una figlia di Atena, pensò. Ho il controllo della mia mente. Immaginò una cornice mentale intorno a ciò che stava vedendo. Si disse che era solo un film, un film dell'orrore, certo, e che non poteva farle alcun male. Aveva la situazione in pugno. Sì, non male, ammise. Potremmo fare una foto per l'album, ma non so, siete così scuri. Anche se usassi il flash, non so se verrebbe bene. Esatto, balbettò Percy. Non siete molto fotogenici? Miserabili turisti, sibilò Nix. Come osate non tremare al mio cospetto? Come osate non piagnucolare e supplicare un autografo e una foto per il vostro album? Volete notizie per i giornali? Mio figlio Hypnos una volta fece addormentare Zeus. Zeus gli diede la caccia per tutta la terra, deciso a vendicarsi. Ma Hypnos si nascose nel mio palazzo per proteggersi e Zeus non lo seguì. Perfino il re dell'Olimpo mi teme. Interessante. Annabeth si girò verso Percy. Bene, si sta facendo tardi. Dovremmo andare a pranzo in uno dei ristoranti raccomandati dalla guida. Dopodiché possiamo trovare le porte della morte. Ah! urlò Nix in tono di trionfo. La sua nidiata di ombre sussultò. Volete vedere le porte della morte? Si trovano nel cuore del tartaro. I mortali come voi non possono raggiungerle, se non attraverso le sale del mio palazzo. La dimora della notte! Fece un cenno con la mano dietro di sé. Fluttuante sopra l'abisso, circa cento metri più in basso, c'era una porta di marmo nero che conduceva in una specie di salone. Il cuore di Annabeth cominciò a battere così forte che lei lo sentì nelle dita dei piedi. Era quella la strada per andare avanti, ma era così lontana, un salto impossibile. Se mancavano la porta, sarebbero precipitati nel caos e si sarebbero dispersi nel nulla. Una morte definitiva, senza possibilità di replica. Anche se fossero riusciti a saltare, Nix e i suoi figli più spaventosi li avrebbero ostacolati. Poi Annabeth trasalì. D'un tratto aveva capito cosa doveva fare. Come tutto ciò che aveva compiuto in vita sua, era un'impresa rischiosa. E in un certo senso questo pensiero la calmò. Un'idea folle per sfidare la morte? Ok, sembrava dirle il suo corpo, rilassandosi. È una cosa che conosci. Sai come muoverti. La figlia di Atena bozzò un sospiro annoiato. Potremmo fare una foto, ma una di gruppo non funzionerà. Nix, che ne dici di metterti in posa insieme al tuo figlio preferito? Qual è? La prole mormorò. Decine di orribili occhi scintillanti si voltarono verso Nix. La dea si mosse imbarazzata, come se il carro si scaldasse sotto i suoi piedi. I cavalli di tenebre sbuffarono e scalciarono nel vuoto. Il figlio preferito? domandò. Tutti i miei figli sono terrificanti! Percy sbuffò. Davvero? Ho conosciuto le parche. Ho conosciuto Thanatos. Non erano così spaventosi? Ci sarà qualcuno in questa folla che è peggio di loro? Il più cupo, suggerì Annabeth. Quello che ti assomiglia di più. Sono io la più cupa, sibilò Eris. Guerra e discordia? Ha provocato ogni genere di morte? Io sono ancora più cupo, ringhiò Geras. Oscuro la vista e confondo il cervello. Tutti i mortali temono la vecchiaia. Sì, sì, commentò Annabeth, tentando di ignorare il fatto che batteva i denti. Ma non vedo abbastanza tenebre. Insomma, siete figli di Nix. Mostratemi il lato scuro. L'orda di Arai gemette, sbattendo le ali da pipistrello e sollevando nubi di buio. Geras spalancò le mani avvizzite e oscurò l'intero abisso. Eris soffiò una scarica tenebrosa di proiettili nel vuoto. Sono io il più cupo, sibilò uno dei demoni. No, io! No, guardate quanto sono cupo io! Se mille polpi giganti avessero spruzzato inchiostro contemporaneamente sul fondo della fossa oceanica più profonda e oscura, non sarebbe stato più buio. Annabeth avrebbe anche potuto essere cieca. Afferrò la mano di Percy e tentò di tenere i nervi saldi. Aspettate! gridò Nix, colta all'improvviso dal panico. Non vedo niente! Sì! urlò uno dei suoi figli con orgoglio. Sono stato io! No, io! Ciocchi, sono stato io! I vecini di voci litigavano nell'oscurità. I cavalli nitrirono preoccupati. Basta! gridò di nuovo Nix. Di chi è questo piede? Eris, mi sta picchiando! urlò una voce. Mamma, dille di smettere! Non sono stata io! urlò Eris. Ai! Il rumore di tafferugli si fece più forte. Se possibile, l'oscurità divenne ancora più profonda. Gli occhi di Annabeth si dilatarono così tanto, che era come se qualcuno volesse strapparglieli dalle orbite. Strinse la mano di Percy. Pronto? Per cosa? replicò lui. Poi, dopo un attimo di silenzio, sbuffò sconsolato. Per le bracche di Poseidone non puoi fare sul serio! Qualcuno mi faccia luce! gridò Nix. Non riesco a credere di averlo detto! È un trucco! urlò Eris. I semidei stanno fuggendo! Li ha presi! strillò una delle arai. No, è il mio collo! replicò Geras con voce strozzata. Salta! disse Annabeth a Percy. I ragazzi saltarono nelle tenebre, puntando verso la porta che era giù in basso. molto, molto lontano! Molto, molto lontano!